Al diktat di Zanda obbedire rispondo che serve più coraggio per buone riforme che siano più di centro-sinistra. Queste le parole che il senatore del PD Roberto Ruta ha rivolto al capogruppo del Partito Democratico in Senato, Luigi Enrico Zanda, dopo che quest'ultimo aveva richiamato all'ordine gli esponenti regionali del PD in Parlamento. Dura la presa di posizione di Roberto Ruta che tra le due strade percorribili ha scelto sicuramente il sentiero più tortuoso. Le dimissioni dalla Commissione Agricoltura in Senato, di cui era il principale gestore d'esponente, fanno senz'altro discutere. Questo perché in precedenza lo stesso Ruta aveva sempre appoggiato e sostenuto in Parlamento la linea Renzi. 35 sì votati a garantire la fiducia al Presidente del Consiglio, il no ai finanziamenti dei caccia F35, in piena linea con quanto richiesto dal PD, pieno appoggio palese ed evidente quello di Ruta anche nel votare a favore dell'emendamento Gotor contro i capilista. Adesso qualcosa sembra scricchiolare nella maggioranza del PD e se è vero come è vero che per guardare ad una crisi non bisogna osservare i pesci grandi, ma a partire da quelli piccoli, allora è evidente che qualcosa non va. Al senatore Roberto Ruta evidentemente non è proprio andata giù la parola obbedienza, tanto conclamata dallo stesso Zanda dopo quanto fatto vedere dal molisano in Senato. So bene che la libertà ha un prezzo e lo pago volentieri, questo è un tempo che reclama chiarezza in Italia e nel Molise e senza mezzi termini Ruta se ne va abbandonando la nave proprio nel momento in cui c'è bisogno a sentire le sue parole di chiarezza e di fatti. La sola presa di posizione di un esponente in Parlamento nel mercato agricolo regionale toglie al Molise un punto di riferimento necessario nello sviluppo imprenditoriale in regione. E a poco è servito portare in sede il nazionale l'emendamento per l'eliminazione definitiva del limo agricolo in Molise se poi tutto viene lasciato lì di punto in bianco, pronto a prendere polvere come tante scartoffie che per i burocrati saranno sempre carta da riciclare, ma per i cittadini valgono più di certe false promesse.